Sì, un progetto direi assolutamente importante perché va a chiudere anche un progetto molto importante che oggi stiamo vivendo un po' tutti in virtù di capitale della cultura, Procida, e va a completare questo progetto in quanto noi con questa mappatura, con questo progetto, le rotte dei Sarracini, mettiamo in evidenza tutte le attività produttive, quindi la loro storia, la cultura, le eccellenze, che sono definiti come i tesori dei nostri luoghi, del nostro golfo. Per ripartire dal turismo, dall'artigianato, dall'enogastronomia? Sì, un settore che ormai sta andando davvero a gonfie vele, questo grazie anche alla Camera di Commercio che sta facendo un eccellente lavoro con una forte sensibilità per quanto riguarda le associazioni che propongono dei progetti interessanti, importanti, che di riflesso fanno bene, beneficiano sia il territorio che le attività produttive. Investire sui giovani artigiani? Assolutamente sì, Bottega Scuola, un altro progetto di Casa Artigiani a brevissimo andrà attuato, quello di Bottega Scuola tramite i maestri artigiani. Ci sarà questa premiazione per dare l'opportunità a tanti giorni di entrare nel mondo dell'artigianato.